Credo che il momento sia giunto. I musei statali compiano un atto di coraggio e restituiscano dipinti alle chiese per i quali furono originariamente creati. Il caso, forse più importante, di un capolavoro sottratto al suo contesto originale si trova proprio agli Uffizi, la para Ruccellai di Duccio di Boninsegna, che nel 1948 fu portata via dalla Basilica di Santa Maria Novella. L'ho detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi, a margine della riapertura di Palazzo Pitti a Firenze. Secondo Smith, il modo più concreto per ripristinare il principio del museo diffuso, secondo la felice espressione di Antonio Paolucci, è che i musei statali comincino a riportare nei luoghi sacri i dipinti che per essi furono creati. Nella loro sede originale ritroverebbero il giusto contesto architettonico-spaziale e il rapporto con le altre opere d'arte con una valorizzazione virtuosa dal punto di vista storico-artistico. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi ha anche parlato delle guide turistiche, sostenendo che sia necessario istituire il prima possibile un ordine professionale per guide turistiche ed educatori museali. Questa categoria dovrebbe essere inclusa in un ordine ufficiale, come avviene per i medici e le altre categorie che svolgono un'importante funzione sociale.